Investimenti e finanziamenti abbiamo già visto che sono concetti molto importanti. Gli investimenti sono sempre uguali in valore ai finanziamenti. I finanziamenti per lo più si distinguono in finanziamenti di capitale proprio e finanziamenti di capitale di debito. Questi finanziamenti consentono gli investimenti che a loro volta si suddividono in investimenti tipo economico, economici e di investimenti finanziari. Andiamo in dettaglio a vedere gli investimenti. Gli investimenti abbiamo detto che sono o di tipo economico o di tipo finanziario. Quindi danno luogo a valori, quindi conti se vogliamo, economici, che si chiamano prevalentemente costi, e valori finanziari attivi. Cioè dei beni che hanno per loro natura un carattere finanziario come il denaro, i soldi in banca, gli assegni, i crediti che rappresentano, se vogliamo, del denaro che verrà riscosso in futuro. A sua volta i valori economici intesi come investimenti e quindi costi, dove per costo si intende l'investimento in un fattore produttivo, un macchinario, un impianto, delle merci, nei salari, negli stipendi, negli interessi passivi e cose di questo genere, tutto ciò che serve per l'attività di produzione. I costi, dicevamo, si suddividono in costi di esercizio, costi sospesi e costi pluriannali, come vedremo meglio in seguito. I finanziamenti che abbiamo detto sono di capitale proprio e capitale di debito, se andiamo a vedere più in dettaglio, possono essere classificati in valori di patrimonio netto, valori economici di patrimonio netto, che corrispondono per lo più al capitale proprio, quindi il capitale proprio rientra nella categoria del patrimonio netto. Ma il capitale di debito, cioè quindi tutti i debiti, sono sostanzialmente dei valori di natura finanziaria, ma non più attiva, come abbiamo visto, per il denaro e i crediti. Trattandosi di debiti hanno un segno negativo, quindi li chiamiamo valori finanziari passivi. C'è un'ulteriore categoria di finanziamenti, se vogliamo chiamarli così, che sono i ricavi. I ricavi si contrappongono ai costi, laddove i costi sono investimenti in fattori produttivi che vengono utilizzati per produrre quei beni e quei servizi che poi saranno venduti, generando un ricavo. Questi ricavi, a loro volta, si possono distinguere ricavi di esercizio, ricavi sospesi e ricavi pluriannali. Fatta questa prima importante classificazione, andiamo a vedere le regole di registrazione utilizzate nel metodo della partita doppia. Vediamo, partendo dai valori finanziari, abbiamo visto che questi si dividono in valori finanziari attivi, possiamo dare una sigla VFA, valori finanziari passivi, possiamo dare una sigla VFP. I valori finanziari attivi non sono altro che le disponibilità liquide, come il denaro in cassa, la banca o gli assegni in cassa o altre cose del tipo, quindi similari, oppure crediti, come crediti verso clienti, cambiare attivi, mutui attivi. Questi formano insieme i valori finanziari attivi. Quali sono le regole di registrazione? I crediti, quando nascono, stanno sempre in dare, mentre quando si estinguono, stanno in avere. Le disponibilità liquide, quando entrano, stanno in dare, quando escono in avere. Poi, visti i valori finanziari attivi, passiamo ai valori finanziari passivi, che sono sostanzialmente tutti i debiti, come debiti verso fornitori, cambiali passivi, mutui passivi, eccetera. Quali sono le regole di registrazione? I debiti stanno in avere, quando nascono, ma si estinguono in dare. Terminata la categoria dei valori finanziari, andiamo a vedere quali sono i valori cosiddetti economici di reddito. I valori economici di reddito sono costi e ricavi. Perché di reddito? Perché sono quelli che, contrapposti, determinano il reddito, cioè l'utile o la perdita. Cosa sono i costi? Sono gli oneri sostenuti per acquisire i fattori produttivi, i quali si suddividono in Costi di esercizio, che possiamo siglare con CE, sono quei fattori che si consumano entro l'anno, come le merci, i contacquisti, i salari, gli stipendi, i fitti passivi, gli interessi passivi. Questi sono tipici costi di esercizio e determineranno l'utile o la perdita di quell'anno, cioè di quell'esercizio. Poi abbiamo i costi pluriannali, che noi possiamo siglare con CP, sono quei fattori che si utilizzano per più anni, come impianti, macchinari, fabbricati, software, brevetti, eccetera. Ci sono anche i costi sospesi, sono quei fattori che, pur essendo di utilizzo veloce, come per esempio fitti passivi, interessi passivi, o anche le merci, però non si sono ancora consumati al termine entro l'anno, cioè quando arriviamo al 31 dicembre, al termine dell'anno, e dobbiamo fare il resoconto, questi fattori, pur essendo di utilizzo veloce, non sono comunque consumati e rimangono ancora nel patrimonio aziendale. Esempio, le merci di rimanenza in magazzino, o un affitto pagato in anticipo per i mesi che riguardano l'anno prossimo. I ricavi sono corrispettivi ottenuti dalla vendita di prodotti, di merci, di servizi, di tutto ciò che noi abbiamo, più in generale, prodotto per la vendita. Essi suddividono in ricavi di esercizio, sigla RE, come le merci vendute, tipico il conto merci conto vendite, o gli interessi attivi che io ho ottenuto da prestiti concessi, o i fitti attivi. Abbiamo poi i ricavi sospesi, siglati RS, che possono essere compresi con l'esempio qui riportato, cioè trattasi, per esempio, di interessi attivi già riscossi, ma relativi all'anno successivo. Quali sono le regole registrazione? I costi stanno sempre in dare, qualunque essi siano. L'esercizio è plurianale o sospesi. I ricavi stanno sempre in avere, siano essi di esercizio o sospesi. Rimane l'ultima categoria, che sono i valori economici di patrimonio netto. Abbiamo detto che questi valori economici sono prevalentemente il capitale proprio, che sono, come noi sappiamo, i finanziamenti provenienti dal titolare e dai soci dell'azienda, l'utile d'esercizio che è dato dalla differenza positiva tra ricavi e costi di esercizio, la perdita di esercizio che è data dalla differenza negativa tra ricavi e costi di esercizio. Quali sono le regole di registrazione? Il capitale proprio viene sempre registrato in avere quando appunto il titolare finanzia l'azienda e questo avviene principalmente all'inizio, in fase di costituzione o può avvenire anche successivamente. Quando invece l'azienda rimborsa il titolare per qualunque motivo, al limite anche per la liquidazione dell'attività, vanno in dare. L'utile d'esercizio, come vedremo meglio nel prosieguo delle lezioni, stanno in dare nel conto economico e in avere nello stato patrimoniale. La perdita di esercizio, viceversa, starà nello stato patrimoniale in dare e nel conto economico in avere. Grazie.